Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Da domani l'Italia torna in zona rossa e sarà così fino al prossimo 3 gennaio. Intanto continua il rifornimento di dosi di vaccino al nostro paese. In merito abbiamo ascoltato anche il parere dei cittadini torresi. Voltiamo pagina, taglio del nastro questa mattina dell'ascensore che collegherà la villa comunale con il piazzale Cesare Battisti. Presenti all'inaugurazione il parroco Doluigi Maiulo e il sindaco della città di Torre del Greco. Il 2020 volge al termine tempo di bilanci, un anno difficile a causa della pandemia. Abbiamo ascoltato gli auguri e i pensieri dei cittadini torresi tra speranze e voglia di normalità. Non sono mancati anche gli auguri del primo cittadino alla comunità. Cambiamo argomento, ti accompagno Vico Vico, ieri la presentazione all'ex palestra Agile del libro di Edoardo Orma e Carlo Boccia. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Ultimo giorno in regime di zona arancione in tutta Italia. Da domani infatti tornerà la zona rossa prevista nel DPCM Natale dal giorno 31 dicembre al 3 gennaio. Saranno nuovamente vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio comune di residenza, salvo per comprovate esigenze lavorative o di salute. Serrante abbassata per gli esercizi commerciali, eccezione fatta per negozi di beni alimentari e di prima necessità. Intanto continua il rifornimento del nostro paese di dosi del vaccino Pfizer. Sono atterrati in nove scali da nord a sud le 470.000 unità del farmaco anti-covid. Dagli scali partiranno scortati i furgoni con i box contenenti le fiale, che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Anche la Campania è pronta ad attivare il piano vaccinale. La regione con i suoi 27 centri è già pronta per la fase 2 delle vaccinazioni. Le primissime dosi potrebbero arrivare entro oggi, mentre altri 35.000 vaccini giungeranno da domani al 2 gennaio. La distribuzione delle varie dosi ha subito ritardi in tutta Europa, a causa del maltempo che sta sferzando i paesi comunitari. Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria e Basilicata. Presto anche la città di Torre del Greco potrà contare sulle prime fiale del farmaco Pfizer-BioNTech. I dati relativi al contagio nel comune Corallino restano stabili. Nella giornata di ieri attestate i nuovi 10 casi di positività e 8 guariti. Un sospiro di sollievo per quanto riguarda il numero dei decessi. Dopo le 5 vittime registrate soltanto nella giornata di lunedì 28 dicembre. Opinioni contrastanti tra i cittadini di Torre del Greco sulla validità del vaccino. Domenica 27 dicembre 2020 inaugurato il Vax Day. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto la voce dei torresi. Mi sembra che sia arrivato il momento affinché sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che i nostri politici si rendino conto che chiaramente la pandemia è diventata un'emergenza per cui il vaccino è per tutti una realtà e deve essere assolutamente somministrato nel più breve tempo possibile a tutta la popolazione. Quindi lei è fiducioso? Assolutamente sì. Se perdiamo la fiducia è la fine, penso. Che sono favorevole, speriamo che vada tutto bene e spero di farlo il più presto possibile. Finalmente riusciremo a dare una svolta a questa pandemia, si spera nell'immunità di Greggio. Lei si sottoporrà al vaccino? Certamente, certamente mi sottoporrà al vaccino come ci sottoporremo tutta la nostra famiglia. Mi auguro nel buon senso delle persone, tutto qua. Qualcuno può darsi che serve perché gli anziani sono soggetti maggiormente a questo problema mentre per altri si può fare anche a meno. 27 dicembre 2020, una data che rimarrà nella storia mondiale. La data del vaccino, vengono somministrati i primi vaccini per combattere il virus Covid-19. Che cosa ne pensa? Penso che sia una cosa buona, però bisogna vedere a noi poi, del popolo comune mortale, quando arriverà il suo vaccino. Perché già il nostro governatore ha dato un brutto esempio che sarà fatto prima a lui. Quindi deve pensare prima ai cittadini, i malati, chi ha delle patologie gravi, gli anziani e poi pensavo a lui. Non come fa, per me ha sbagliato, in questo campo qua ha sbagliato proprio nettamente. Lei è favorevole? Favorevole perché a meno stanno dicendo che questo è l'unico per combattere questo maledetto virus. E poi speriamo solo nel Signore. Come persona sono un po' titubante perché non so quello che mi verrebbe iniettato e in via di sperimentazione propongo di farlo alle persone anziane e ai soggetti a rischio. Anche io come insegnante dovrei farlo, però non so se lo farò perché non mi fido tanto, onestamente. A mio padre che ha 88 anni lo farò fare sicuramente. Io penso che sia un'arma buona per combattere questo Covid. Speriamo che lo possano fare un po' tutti. Anzi, che tutti abbiano la volontà di volerlo fare. Perché comunque è un'arma a nostra disposizione per combattere il Covid. Perché abbiamo visto che siccome lui si è anche trasformato ed è un po' più aggressivo, queste mascherine non le potremo togliere né mo' né mai se non facciamo il vaccino. Poco di buona volontà. E lo facciamo tutti qua. Tutti quelli che sono a rischio come me. Ho una certa età, tengo un po' di diabete. Lo sai che un vaccino a me mi serve? L'importante è mantenersi ottimisti. Certo, certo, dobbiamo essere ottimisti. Solo che ci dobbiamo liberare di queste mascherine. Perché sì, si proteggono, però sono diventate qualcosa di... Un'altra cosa ti dico. I giovani questo Covid lo vivono in modo diverso da noi anziani. Noi soffriamo perché c'è la lontananza con gli amici. Perché quando uno ha una certa età, quello che ti rimane è l'amicizia, il poter stare insieme alla famiglia. Questo ci fa sentire il peso degli anni. Cosa che invece prima no. Se torno indietro, all'anno scorso, di questi tempi, io andavo a ballare, andavo in palestra, stavo con le amiche, faccio parte di un'associazione di volontariato, stavo a contatto con gli altri. Quindi la mia età non la sentivo. Io ho 71 anni. Quindi adesso i 71 anni sono diventati pesanti. Adesso mi sento vecchia. Io sono a favore perché dobbiamo essere a favore della scienza. Perché innanzitutto, come sta andando la situazione, diciamo solo con la scienza e diciamo con la nostra fede si può capire se il futuro nostro deve andare avanti o no. Io penso che dobbiamo essere tutti d'accordo con la scienza. E il vaccino si deve fare. Giornata di inaugurazione alla Villa Comunale Vincenzo Ciaravolo di Torre del Greco. Nella mattinata di oggi è stata messa in funzione l'ascensore che collega la villa ed il piazzale Cesare Battisti. Un evento che la cittadinanza aspettava da tempo, dopo che l'opera è risultata non funzionante per alcuni anni. Presente al tradizionale taglio del nastro, il parroco della parrocchia di Santa Maria del Principio Don Luigi Maiulo ed il primo cittadino Giovanni Palomba. È un momento importante per Torre del Greco perché unisce una parte della città, la zona di via Monsignor Filicio Romano e Cesare Battisti, immediatamente con il centro di Torre del Greco. Un'opera che ha avuto una serie di vicissitudini e che oggi riusciamo a realizzare questo sogno dei cittadini di questa zona che con un semplice tasto, in tempo di 10-12 secondi, salgono al centro della città. Sarà dalle 8 del mattino alle 8 di sera, sarà sorvegliata da guardie giurati che immediatamente possono intervenire per qualsiasi situazione. Speriamo, nei ragazzi, nella buona comprensione di chi praticamente è presente nella villa comunale, di starsi attendo un po' tutti quanti. Perché è un'opera che serve alle persone anziane e bisogna che ognuno di noi, logicamente, sono momenti di Covid, bisogna salire con quella che è una o massimo due persone, diciamo così, questo è fondamentale. Il sindaco fa un appello in particolare alla cittadinanza per evitare che la censura sia oggetto di atti vandalici che possono estremertene la funzionalità. È un'opera che serve praticamente alla tranquillità di tutti quanti noi. Quindi evitiamo, io dico, faccio un appello, un po' tutti quanti, se vediamo qualcosa di anormale, immediatamente, chiamate le forze dell'ordine, collaboriamo un po' tutti quanti. Grazie a tutti i cittadini. Tempo di bilanci. Cosa pensano i torresi di quest'anno di amministrazione Palomba? Molte le polemiche sulla gestione dei rifiuti e sul contenimento del Covid-19. Secondo me il sindaco fa pochissimo, anzi penso che non abbia fatto proprio nulla. Non so che potere abbia, tra virgolette, essendo sindaco, ma penso che non abbia nessun potere perché non fa nulla in merito alla città. Quindi ritengo che la società che gestisce i rifiuti urbani serve a poco e serve a poco quello che il sindaco fa insieme alla società dei rifiuti urbani. Quindi direi che dovrebbero andare via tutti e due. Facciamo un bilancio sull'amministrazione comunale del sindaco Giovanni Palomba. Che cosa ne pensa? Che anno è stato, secondo lei? Ma io credo che da quando la carica è a questo sindaco non ci sono stati grossi miglioramenti, anzi, forse proprio nulli. Basta pensare alla questione spazzatura e a tutto il resto. Insomma, lo vediamo, è palese, è palpabile. Io abito al centro e quindi, nonostante abito in una strada principale, vedo a pochi metri da casa mia lo scempio, in pratica, cumuli di spazzatura nonostante sia una strada appunto di quelle principali. e questo è, diciamo, l'apice proprio del fallimento. Se poi vogliamo parlare anche come è stata trattata questa pandemia, sinceramente non sono per niente contenta. Un anno che sta per chiudersi qui a Torale del Greco, un anno in cui la città ha sofferto molto l'emergenza Covid, un messaggio da parte del sindaco ai cittadini. Il 2020 è un anno che rimarrà nella storia. Noi rimarremo nella storia per tutto quello che è avvenuto. Il Covid possiamo definirla una guerra che è con un nemico invisibile. Adesso pensiamo al nuovo anno, pensiamo al 2021. Io spero che l'anno che verrà ci dia a meno quel minimo di serenità e di tranquillità. Da viverlo il 31 con le nostre famiglie, con i figli, i nipoti. E l'appello che faccio è i botti legali. Dobbiamo fare in modo che non ci sia nulla di questi botti legali per salvaguardare noi stessi, la nostra famiglia, i nostri figli e in particolare anche gli animali che vivono con noi. Perché loro non li sentono in modo maggiore rispetto a noi essere umani. La città di Tore del Greco si prepara a salutare il 2020, un anno che ha segnato il mondo intero a causa della pandemia. Le richieste dei cittadini all'anno che verrà tra speranze e voglia di ricominciare a vivere. Dopo un anno così difficile e complicato dopo il 2020, che cosa si aspetta invece dal nuovo anno, il 2021? Mi aspetto finalmente una cosa che ci auguriamo sempre tutti e ce lo siamo augurati sempre in tempi non sospetti. Tanta salute per tutti, questo mi aspetto. Tanta salute perché veramente è stata dura, soprattutto a livello psicologico diciamo. Perché anche chi non se l'è preso il virus un po' se l'è sentito addosso dopo tutto quello che ha visto e ha vissuto sia nel proprio paese ma anche a livello mondiale perché è stata abbastanza straziante la cosa, straziante e inaspettata. Perciò tanta salute per tutti. Ormai il 2020 è quasi giunto al termine. Che cosa chiede al 2021, l'anno che verrà? Solo che questo virus veramente con questo vaccino risolverà i problemi di tutto il mondo. Per l'anno nuovo chiedo nella mia famiglia la situazione attuale perché stiamo bene, tutti bene, quest'anno non ho perso nessuno e auguro agli altri di un anno migliore per quanto riguarda soprattutto la salute e per il mondo intero, le finanze, insomma benessere in generale. Questo è l'augurio che faccio a tutti, alla mia famiglia e specialmente al popolo torrese che ha bisogno di una mossa. Che cosa chiede all'anno che verrà? Di poter togliere queste mascherine così possiamo stare tutti più tranquilli e poter abbracciare i nipotini, i figli, i parenti e gli amici. Questo sì, non sarà subito, però almeno per l'estate. Il mio augurio è sperare che il prossimo anno sia molto, ma molto migliore di quello che è stato adesso. Mi aspetto innanzitutto che le forze governative facciano uscire un po' di lavori per i giovani e che si arrivi alla fine di questa epidemia perché non se ne può più. Diciamo che è tutto bloccato, i bambini stanno sempre con noi tutti i giorni, la mattina, video lezioni, tanti sacrifici e speriamo che il 2021 porti tanta pace, tanta prosperità innanzitutto alla fine di quest'incubo perché ormai è un incubo per tutti. Meglio guardarci da questa epidemia. Speriamo che va mano a mano scalando e viviamo tutti felici e contenti perché è troppo una schiavitù così. i figli dal nord non hanno potuto scendere perché lavoravano e poi stava in zona rossa e siamo solo io e mia moglie. Voglio il bene di tutti specialmente gli ospedali che danno tanta attenzione per questi malati eccetera eccetera. Siamo con Edoardo Ulma, autore insieme a Carlo Boccia del libro T'accompagno, Vico Vico. Cosa racconta questo libro? Il libro è un racconto di una storia che noi vogliamo portare avanti attraverso una passeggiata per il centro della città. Ci sono due percorsi che vengono raccontati nel libro quindi chi vuole fare una sorta di guida turistica per la città vuole fare una passeggiata si porta il libro appresso troverà tanti spunti per guardare alcuni posti che vengono visti all'interno delle viuzzole di Torre del Greco. Tutto il percorso parte da Piazza Santa Croce quindi fa un percorso che gira attraverso i vicoletti storici della città e quindi pian piano si fa un percorso che dura 70 pagine e che permette al visitatore che vuole per la prima volta guardare la città da un altro punto di vista raccontare com'è la storia della nostra città. E quindi il libro è dedicato proprio alle persone che hanno voglia di conoscere la città e di far sì che il nostro territorio venga valorizzato su alcuni posti della città che sono un pochettino abbandonati a se stesso. Questo libro è il risultato dei miei anni circa 50 anni vissuto nella zona della Marina di cui ho descritto tutto quello che io ho visto in questi anni la storia popolare, la storia vera gli aneddoti, le tradizioni, le curiosità la gente come vive, i vicoli e mi sono appassionato io sono appassionato di storia locale ma questo mi ha trattato di più non ho scritto, non pretendo di aver pubblicato un libro di storia ma le tradizioni di Torre del Greco che è la vera storia di un paese, di un popolo che non dobbiamo dimenticare e diciamo sono la parte più importante io ho visto che in questi vicoli c'è molta umanità la gente la gente si tiene ancora alla tradizione dalla parte alta della città qui si vive come ancora in 100 anni fa e sono soddisfatto delle mie ricerche spero di farne anche un altro e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale prima di salutarvi come sempre vi ricordo i nostri contatti utili l'email redazione con questo è veramente tutto non mi resta che formularmi i miei più sinceri auguri di buon anno da parte mia e di tutta la redazione della nostra emittente il telegiornale vi dà appuntamento lunedì 4 gennaio 2021 il telegiornale vi dà appuntamento lunedì 4 gennaio 2021 il telegiornale vi dà appuntamento lunedì 4 gennaio 2021